Buonasera Buonasera, mi chiamo Giulio Michelon, il video che avete appena visto è di un regista americano che vive a New York, si chiama Casey Neistat, per chi di voi non si intende bene con l'inglese, in breve dice che la vita è come un nastro trasportatore, se state fermi vi trascina, se camminate riuscite a rimanere nello stesso punto, l'unica maniera per avanzare è correre. Tenete a mente queste immagini, ci torneremo alla fine del talk, ora però vorrei raccontarvi una storia, 4 anni fa mi diplomo al liceo scientifico, uno si aspetta che a quell'età un'idea sul futuro, una passione da inseguire, un sogno sia la via più semplice da trovare, qualcosa, qualche sogno, nel mio caso non era assolutamente così, io sapevo solo cosa non volevo fare, chimica. Non ho mai stato molto in gamba. Quindi mentre tutti i miei amici decidevano secondo le loro passioni chi voleva diventare pilota d'aerei, chi salvare la foresta amazzonica, chi voleva costruire grattacieli, io semplicemente cercavo la cosa il meno vincolante possibile per il mio futuro. Insomma dopo il liceo l'ennesima non scelta della mia vita, ed è così che decido di iscrivermi ad economia, una scelta assennata, rigorosa, lungimirante e d'altronde nessuno ti può davvero dire nulla se studi i soldi. E insomma così mi iscrivo e nonostante la mia scarsissima convinzione riesco ad entrare e a passare al test di economia, qui proprio all'Università di Trento. Tutto contento con i miei amici, pronotiamo il viaggio di maturità come insomma tutti i ragazzi giovani, salvo poi scoprire esattamente il giorno prima del volo che ho sbagliato l'iscrizione di ben due settimane. Immaginate come potessi sentirmi al momento. Inizio a girare di segreteria in segreteria per cercare di sistemare la situazione, insomma, e mi spiegano che il mio posto, dopo numerosi ripescaggi, perché insomma due settimane sono lunghe, era stato affidato a una persona con un punteggio in fiori del mio, ma che sa leggere le date. Eh già. E quindi che si fa? Quindi mi danno in mano un dépliant dell'università e dicono Bene ragazzo, scegli una facoltà a numero aperto, nel momento in cui qualcuno ad economia molla, puoi subentrare te. Benissimo, dico. Apro il dépliant dell'università, salto a piepari ingegneria per l'eccessiva presenza di chimica, e tra fisica, filosofia, lettere, matematica ed informatica inizio a decidere che cosa fare. L'informatica mi è sempre interessata, ma un interesse, diciamo, da entusiasta, un po', un po', sì, da fuori, ecco. Diciamo che se il liceo scientifico mi aveva dato dei chiari segnali rispetto alle mie scarse capacità in chimica, avevo avuto delle sensazioni simili anche per matematica, materia fondamentale quindi ad informatica. Infatti poi alla fine decido informatica. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché io credo che il coraggio di osare stia proprio in questo, trovarsi in una situazione di estremo sfavore e decidere di prendersi dei rischi per riuscire a cavarne fuori qualcosa di buono. Da questi rischi potrebbero succedere cose anche peggiori. Però io credo che quando le opportunità bussano alla porta, vadano colte, vadano percorse. E nel mio caso io ancora non lo sapevo, ma l'informatica, perché poi non subentrai mai più ad economia, ma avrebbe portato lontano, molto lontano. Flash forward di un paio d'anni. Mi trovo alla sede di 500 Startup, uno degli incubatori d'impresa più brillanti e prestigiosi della Silicon Valley. E sto dialogando con Edoardo Saverin. Edoardo Saverin, il signore Edoardo Saverin che possiede il 15% di Facebook. Una di quelle persone che quando a Facebook c'erano Edoardo Saverin, Mark Zuckerberg e pochi altri, si potevano sedere tutti attorno a un tavolo per decidere, ma allora come la facciamo? Ci mettiamo i commenti? Mi piace? Sì, 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 è molto bello. Lui era là. Come c'era arrivato? Dicevo. Grazie all'Università di Trento sono riuscito ad accedere a un tirocino di tre mesi a Eversnap, una Startup americana. Lì sono venuto a contatto con tutto quel tessuto imprenditoriale, quella voglia di creare cose incredibili che è la Silicon Valley. Ho conosciuto persone che influenzano la vita di milioni di persone grazie ai prodotti che costruiscono. Inutile dirlo, una volta tornato a casa, l'unica cosa che volevo fare era far partire la mia Startup. Di cosa si sarebbe occupata? Con chi parla? Come si fa una Startup? Questi erano tutti i problemi secondari. E quindi, dovendo rischiare, rischio in alto. Scelgo per il meglio qual è l'incubatore d'impresa o acceleratore, che si voglia dire, più famoso d'Italia. Per chi non lo sapesse, un acceleratore d'impresa, giusto che altrimenti magari... È una struttura che permette alle Startup, in cambio di una piccola quota societaria iniziale, di crescere più velocemente, da nome acceleratore. E grazie a queste strutture le Startup prendono velocità e riescono a diventare quello che poi sono diventate. E quindi, dovendo rischiare, scelgo per il migliore. Se è quotato due settimane fa nella borsa italiana, si chiama H-Farm. A questo punto, tutti i problemi che avevo detto prima iniziavano ad emergere, quindi cerco dei soci. Inizio a cercare tra quelli del corso che conoscevo e mi rivolgo a Luca Dinkà, un amico con cui avevo già collaborato brevemente in precedenza, e con un ragazzo che non conoscevo tanto, però aveva un curriculum di tutto rispetto. Infatti, lavorava per un'azienda di videogiochi, Giovanni Frigo. Assieme a loro, ricordo, era un caldissimo agosto, iniziamo a costruire quest'app che ci avrebbe aperto le porte del successo internazionale. Insomma, giorno dopo giorno, in salotto, ideiamo quest'app che si chiama Degusto. Attraverso il tablet puoi vedere tutte le cose del ristorante, quindi tutti i piatti, scusate, tutti i piatti del ristorante, posso vedere le foto, se sono un turista vedo la traduzione, eventualmente poi andando avanti potevamo farle anche ordinarie, quindi andiamo avanti, costruiamo il prototipo, andiamo con le slide, prepariamo tutto quanto, H-Farm dopo avergli mandato tutto quanto si interessa, un paio di Skype call, e da lì si aspetta, si aspetta per un paio di settimane l'email, quella che ti cambia la vita, l'email, quella dei film. Dopo un paio di settimane l'email arriva e ci hanno scartati. Sconforto. Ed è proprio in questo momento, come in quello precedente, che decido che se una strada non si può percorrere, ce ne sono mille altre. E assieme a Giovanni e Luca, con i quali ci eravamo trovati molto bene a lavorare, decidiamo di andare in una direzione un po' più solida. Il bagno di realtà che ci aveva fatto H-Farm, peraltro legittimo, tutte motivazioni corrette, siete troppo giovani, il prodotto è troppo all'inizio, insomma, ho 23 anni. Erano cose corrette. E quindi decidiamo di andare verso un business più solido, più tranquillo, qualcosa che ci permetta di iniziare a far girare la ruota subito. Facciamo sul serio. Prendiamo un piccolo ufficio qua a Trento e i pomeriggi che prima passavamo in salotto da me iniziano a diventare giornate in ufficio e ci proponiamo come società di consulenze. La fortuna ci viene incontro e dopo poco tempo il nostro primo lavoro. Il sito di una start-up americana. E da lì passo dopo passo, mattone dopo mattone, un sito un po' più grande, una cosa più interessante, iniziamo a muoverci verso le app, iniziano a contattarci le aziende, quelle serie, quelle grandi, quelle che i lavori non durano più qualche settimana, durano dei mesi. E le cose vanno bene, ci costituiamo come società, stiamo per assumere le prime persone, insomma, non siamo la Microsoft, ma è buon inizio. E grazie. Ma torniamo al titolo di questa talk, nel caso qualcuno di voi l'avesse letto, come ho mandato un cane nello spazio. Perché un cane? Giulio, non ci hai detto nulla che riguardi i cani finora. Beh, dopo l'Ica, non tutti conoscono la storia, sono stati mandati numerosi cani nello spazio. Il secondo, in particolare, è stato quello che ha dato il nome alla nostra azienda. Ed è qui, secondo me, la chiave di lettura di tutto questo. Solo il fatto di poter immaginare, un giorno, di guardare il proprio cane e dirgli, sai che c'è? Volevamo farti fare un giro 18 volte attorno alla Terra e poi farti tornare, nella cuccia come prima. E insomma, io credo che il coraggio di osare stia proprio in questo, in vedere delle strade dove non ci sono assolutamente delle strade, nel continuare a percorrerle, nell'andare avanti, e a forza di continuare a spingere, a crederci, come vi ricordate il video all'inizio, quello della persona che vi dicevo che se si continua a camminare si resta fermi, ma se si corre, se si continua ad andare avanti, allora lì si può anche riuscire a mandare un cane nello spazio. L'importante è riuscire a continuare a correre. Grazie. Applausi Grazie. Applausi